Sono veramente stanco di navigare a vista. Il tuo conto rischia ormai il naufragio? Già, e mi tocca remare per andare anche in vacanza. Le tue finanze sono colate a picco. Lasciamo stare. I pescecani mi stanno divorando vivo. Ogni tanto mi viene persino voglia di buttarmi a mare. La tua economia ha toccato il fondo? Per forza. Tra mutuo della casa e carovita ho l'impressione di affogare. Ma come? Non lo sai. Nel mare magno di offerte di credito c'è una speranza. Sul serio? Dai, dimmi. E ti serve una zattera di salvataggio? Beh, in effetti ci vorrebbe proprio. Per te c'è carta attiva di Agos. Carta attiva di Agos. L'unica carta di credito che diventa come un salvagette quando ti occorre contante per le spese impreviste o per le tue vacanze. Carta attiva di Agos. La tua riserva di contanti da utilizzare come e dove vuoi tu. Per informazioni e per scaricare il prospetto informativo visita il sito internet www.agosweb.it o rivolgiti al consulente Agos a te più vicino. Eccola. Dai, aiutami a remare. È tuo Agos all'orizzonte.